Federico è il sindaco di Casale Monferrat, grandissimo lavoratore. Daniele è il sindaco di Trino, sono molto vicini alle persone. Lido è il sindaco di Recetto ed è anche, lui è un ingegnere civile. Come nacquero le relazioni diplomatiche tra i due bens? Doppia striscia. Civil Defense Division, protezione civile. 11, 12, 13, qua c'è un supermercato. Damari, tipo Zadiri, carica! Non parla, no. Listo! Sono stato bene, ho avuto delle... Grazie a tutti.